amiche e amici di gs in italia ben ritrovati per la sintesi della seconda tappa dell'uai tour oggi si parte da hatta e si arriva a hatta dam quindi un percorso che prevede una fase iniziale in cui si va verso il mare per poi tornare indietro sulla stessa strada per 168 chilometri hatta dam sta per la diga sopra hatta infatti oggi in arrivo molto particolare con un pendenze superiore al 15 per cento ma per un tratto molto breve inferiore ai 300 metri l'anno scorso ha vinto che le bion giusto per darvi un'idea quindi un velocista che però riesce a essere molto leggero adatto per questi tipi di arrivi complicati la maglia rossa di leader della classifica generale sulle spalle di pascal akerman che ha vinto ieri la prima frazione la maglia verde classifica punti e sul secondo arrivato di ieri proprio che le bion il favorito di oggi poi c'è la maglia bianca di miglior giovane sulle spalle di stonic che sta provando anche oggi ad andare in fuga insieme al compagno di squadra tor tomasi che veste la maglia nera di leader della classifica dei tre guardi intermedi in realtà anche quella nera sarebbe sulle spalle di stonic però non può portarne due quindi se le dividono così oggi non parte l'orende plus leader per la classifica generale della jambo visma problemi fisici per lui si fa volata anche dietro per il treguardo volante per un terzo posto tra craig anderson e pogacar vince craig anderson in questo caso lo sprint è per il secondo di abbono più che per i punti perché permette alcuni vantaggi tra cui portare avanti la propria ammiraglia quando sono tutti a pari tempo può essere un vantaggio avere un corridore un po più avanti in classifica anche solo di un secondo in modo da avere l'ammiraglia pronta dietro nelle retrovie del gruppo intanto i due davanti continuano ovviamente di comune accordo sono della stessa squadra hanno tutto interesse ad arrivare almeno al secondo gran premio scusate traguardo volante bella ripresa all'interno del gruppo da christoph finksten vediamo a kerman tranquillo pedalare in piedi ai 23 9 dal traguardo viene ripreso anche torto masi che era rimasto da solo al comando il gruppo come vedete organizzato per squadre tutti cercano di tenere davanti i propri capitani a 10 dall'arrivo si stacca a kerman si è staccato anche frum precedentemente sta ancora trovando la forma il keniano bianco a 9.9 dall'arrivo su un tratto in salita se ne va victor campanaerz che magari tanti non riconoscono che ha cambiato squadra adesso la ntt in più si è fatto crescere anche la barba lo segue nicola conci della team trek si forma quindi una coppia al comando provano questo attacco disperato risulta difficile sia per l'arrivo che è molto in salita quindi bisogna arrivare con le gambe sia perché il gruppo non lascia fare tutti gli uomini hanno interesse a portare i propri capitani nel migliori condizioni per sprintare siamo ormai sull'arrivo mancano 100 metri che le bian e sen bene hanno fatto il vuoto sugli inseguitori dietro sen bene non ce la fa si pianta che le bian va a vincere per il secondo anno consecutivo qui adatta dam defilando anche due secondi e sen bene se quattro il resto del gruppo arriva arno de mare in terza posizione un buon diegolissi in quarta posizione si è fatto superare proprio sulla linea dell'arrivo da arno de mare quinto per rizzare il sesto posto ottimo anche per andrea vendrame che le bian conquista anche la maglia rossa di leader della classifica generale sia per i secondi di abbono di ieri ma soprattutto per quelle di oggi per aver staccato anche il gruppo a secondo posto sen bene sporno de mare quarto posto per nicolai il serkasov che era in fuga ieri ha guadagnato secondi nei treguardi volanti oggi riuscito arrivare con il primo gruppo vediamo la tappa di domani terza frazione dal quadra cycling trek quindi dal velodromo di al quadra 184 chilometri sarà la prima delle due tappe con arrivo al jabele fette l'arrivo in salita a 1032 metri nella tappa che non ha particolare difficoltà a meno che non ci sia vento i treguardi volanti sono verso la fine della tappa al centocinquantesimo al centosettantesimo chilometro e poi c'è questo arrivo in salita in cui i corridori da corse a tappe potranno sfogarsi e far vedere subito chi è il più forte in salita qui all'uai tour come sempre ci vediamo domani per la prossima sintesi